Carissimo Marco, cappato troppi Marco nell'associazione Luca Coscioni e nel partito radicale, che gioia immensa e infinita legge nella tua email, guardala. Luca Coscioni e nel partito di casa, c'è un'altra cosa, mi ha preso questo 3.9 km di anno, ma era salito, insieme a questa ragazza, una sua amica, che quindi è stata l'ultima persona che ha visto Luca vivo, abbassi ovviamente i due assunti assassini. Questa ragazza non è stata isolato ma mi ha visto Luca, ha visto Luca sul terreno che Luca ovviamente è sceso. Stavo per avere una seconda trombosia all'arteria basilare per la felicità incommensurabile che essa mi ha provocato. tuttavia te gli rispondo entro il 13 prossimo per essere il più dettagliato possibile poiché ora non ce la faccio per troppo che sono felice grazie a te a presto e aveva ragione Nicola Porro, guarda grazie